ciao a tutti appassionati di anime manga sono alas come sempre un video su youtube su instagram su twitch e anche il mio pubblico per stare sempre aggiornati tutti i link come sempre trovate qui sotto in descrizione oggi andrò a fare la recensione di aula alla deriva edito da star comics prezzo 17 euro manga di kazuo umez siamo il nostro protagonista show un bambino di sesta elementare perché si in giappone perché ancora non sa l'elementare è composta da sei anni mentre superiore solo a tre quindi un bambino tranquillo normale che un po per varie vicissitudini c'era un poco su mamma un poco la scuola decide quasi di mettere una dinamite sotto la scuola per far saltare non riesce nel suo intento ma la scuola subisce qualcosa di particolare e viene catapultato boh non si sa in un'altra dimensione in un altro spazio tempo nel passato nel futuro boh comunque sia poi si spiega più avanti non ve lo dico cosa succede e quindi show con tutti gli alunni gli studenti gli insegnanti e un altro bambino più piccolo che lo stava inseguendo con un triciclo si è catapultato in questo mondo dove esiste solo l'edificio scolastico fuori tutto deserto senza acqua senza piante un sole cocente e strane creature e ovviamente sono scioccati turbati sconvolti di quello che è successo successo non capiscono perché con peso show ovviamente e cercheranno di sopravvivere qua vedremo tutte le nefandezze dell'animo umano quando è costretto a sopravvivere finché sei comunque in una società i tuoi istinti comunque li tieni sopiti hai un codice morale etico nella società mentre in questo mondo che non è composto di società ma si rischia di morire di fama di sete di stento di malattie strane e l'istinto di sopravvivenza diciamo così esce fuori e anche gli stessi bambini che quello che fa più specie non gli adulti o tra le adulti è intuibile ma anche gli stessi bambini regrediscono cioè tra virgolette non dico vesti ma comunque a lasciare da parte il vivere comune ma a pensare più che unicamente a se stessi anche se la forza dell'uomo è stare insieme quindi shock avrà un gruppo si farà un suo gruppo una sua cerchia di amici anche la ragazza soprattutto la ragazza di cui è infatuata di lui è un altro gruppo che gli dà la colpa a show in qualche modo di quello che è successo vedremo strane creature come ho detto adulti che cercano di rubargli il cibo bambini di comandargli fargli fare quello che vuole e nel mente show scopre avere un partire particolare che in certi momenti e in certi con qualcosa che non vi dico non fai spoiler riesce a comunicare con sua madre originale del suo mondo originale e riesce a fargli capire che sta bene che ha bisogno di qualcosa magari in un coltello perché sta per essere ucciso sua madre non si sa perché percepisce questo pensiero ci crede al volo e nasconde un coltello nel punto in cui il figlio gli consiglia e il figlio contemporaneamente in quel mondo strano particolare esattamente li troverà quel coltello lì come se si fosse teletrasportato quindi questo qualcosa di particolare ovviamente vedremo come già c'è in alto tutte le nefandezze dell'animo umano la digressione dalla società a cui siamo abituati a comunque cercare la collettività di aiutarsi gli uni agli altri a avere comunque questa cosa che viene via sempre sempre meno dove comincia come natura vigere la legge del più forte sono comunque bambini delle elementari nel senso che ok show è sesta elementare quindi è quello più grande quelli sesta sono quelli più grandi ma ci sono anche quelli prima elementare che ovviamente patiscono molto di più sta cosa piangono vogliono i genitori soffrono di più la fame la sete anche le malattie quindi vedremo parecchie morte anche morti orribili il finale ma spiazzato pensavo che si concludesse in un modo completamente diverso particolare come finale interessante mi ha intrigato è un finale che assolutamente non mi sarei mai aspettato quindi mi è piaciuto abbastanza mi ha lasciato ripeto sconvolto perché non me lo aspettavo che finiva così ecco una storia da prendere per quello che è insomma non è una storia troppo complessa troppo articolata è da leggere da passare il tempo se vuol dire un po ansiogena un po horror ma così proprio detto la lontana horror più che più thriller dove qua vedremo proprio l'animo umano come il vero mostro e la causa di tutto ciò che sta succedendo quindi ci sono parecchi rimandi alla società moderna moderna per quegli anni perché degli anni 70 un monito a chi leggeva questo manga attenzione che ci stiamo incamminando in un futuro disastroso e purtroppo ci sta azzeccando per certi versi mi fermo qua perché sennò rischierei di dire troppo e quindi è un po monito soprattutto ecologico sociale bisogna comunque far presente negli anni in cui sto scritto nel 70 che sì ok c'è stato il dopoguerra c'è stata una grossa perdita da parte giapponesi vivevano distenti e nel 70 più o meno cominciavano un po a riprendersi come si cominciava un po a stare meglio non ancora così bene ma si sta decisamente meglio rispetto agli anni 50 60 e quindi è un po monito a non correre troppo a non sperperare troppo a pensare anche al futuro non solo al presente e quindi è un po è un invito che fa pensiamo a noi come umanità a noi come pianeta terra uomo terra cosa lasceremo il futuro ai nostri figli e quindi ci sono tante domande molto molto attuali nonostante siamo passati più di 50 anni quindi parecchio attuali e quindi fa un po specie un po specie perché leggere romano non ha ancora capito nulla e continua a fare sempre gli stessi errori purtroppo comunque a manga che consiglio parecchio è uno dei lavori più belli di kazuo mezz insieme a io sono shingo secondo me io vi invito ad andare a recuperarlo io vi ringrazio se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video